patente e libretto marescia l'ho lasciata a casa ma l'ha discordata ma che ti hai scordati te l'ha girato pure prima di scendere pigliate la patente e portate la presa marescia mi dovete credere non se la porta mai ah bravo mi fa piacere allora una volta che stiamo a questo voi avete anche superato il limite di velocità che in questa zona è di 50 km all'ora voi andavate almeno a 70 km non è vero andavo al massimo a 60 km all'ora è vero? è vero a 60 km all'ora marescia ve lo giuro stavano a 120 km va chiaro va chiaro va chiaro niente bravo bravo quindi è un altro verbale una volta che stiamo a questo voi non avevate nemmeno la cintura di sicurezza eh no la cintura di sicurezza me l'ha disganciata come capace vista a voi se volevo scendere dalla macchina è vero o no? ma che è vero tutto l'ha girato pure per i miei partiti e ti dà la cintura marescia niente ciò dico sempre non se la metto mai la cintura mai ma fu scredito ma te l'ho ancora un buffo di casa che ha capo il dovere eh signora ma è sempre così violento? no marescia no solo quando sta ubriato no mappa no ma di lack of no mappa no mappa la cintura no mappa non lo no e coi rix Grazie a tutti.